Il futuro della capitale ricomincia anche dal luogo simbolo, la sfida, la crisi dallo spazio conviviale con meravigliosa vista sul centro di Roma. Riapre la Divinity Terrace, la splendida terrazza del The Pantheon Iconic Rome Hotel in via Santa Chiara 4 capace di coniugare stile, eleganza e buon gusto. Un soft opening nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza fissato per il 2 settembre quando alle 17 si potranno sorseggiare gli esclusivi cocktail su una delle terrazze più belle di Roma e trattenersi fino a cena. Con le proposte culinarie dello chef residence la stella Michelin Francesco Preda che ha riservato particolari proposte gastronomiche che saranno svelate la sera stessa. Grazie